Stalin è morto. È morto. Stalin è morto! Voglio fare un discorso al funerale di mio padre. No problemi. Eh, teoricamente sì, ma praticamente. Quando ho detto no problemi intendevo dire no. Problemi. Ignoratemi. Ci serve il tuo aiuto. Dovrò segnalare questa conversazione, minacciare di ostacolare un membro del presidio, mentre guarda la tua cazzo di faccia. Stalice divertirebbe un mondo. Ho documenti su tutti voi! Stavo indicando voi, non ce l'aveva con me. No, no, ha detto tutti voi. Ha detto tutti voi. Sapete? Tutti voi potete baciare il mio russissimo culo. Scambiamoci di posto. No. Scambiamoci di posto. Ho detto no. Che cosa cazzo stai facendo? Che cosa cazzo stai facendo? ... ... ... ... Grazie a tutti.